freelance camp è networking persone formazione freelance camp è tornare a casa belli carichi di energie di informazioni utili e di tanti nuovi contatti il freelance camp è un'idea che genera altre idee è un progetto in cui le persone mettono in comune le loro esperienze le loro soluzioni i loro problemi con grande disponibilità e voglia di fare della strada insieme